Cosa ne pensi Mauro dell'Arcangelo Michele? Ah guarda, l'Arcangelo Michele io penso che fosse un individuo assolutamente carne ed ossa, quindi non un angelo così come inteso normalmente e da come viene definito dalla Bibbia, che lo cita tra l'altro molto poco però, era sicuramente un militare, viene citato come il primo dei capi, cioè uno dei più importanti, quindi io lo definirei un generale di corpo d'armata. E la cosa che mi stupisce è che la Chiesa l'abbia fatto santo. Ora è difficile pensare che si possa fare santo un puro spirito, perché vorrebbe dire che tra gli angeli c'è qualche angelo che è più puro rispetto ad altri e la cosa è un pochettino difficile da pensare. Molto più facile invece pensare che se è stato fatto santo, visto che la Chiesa romana ha inventato questa figura dei santi, beh anche in origine anche loro pensassero che fosse una persona in carne ed ossa, perché solo in quel caso si può pensare di farlo santo. Grazie Mauro.